18 autobus extraurbani che andranno così ad ammodernare il parco mezzi. E' questa la scelta di TM che a breve metterà a disposizione degli utenti i nuovi mezzi di ultima generazione con le migliori dotazioni di bordo in termini di tecnologia, sicurezza e comfort. Noi abbiamo una flotta urbana che ha degli standard a livello europeo, metà media di 7 anni e mezzo. La flotta extraurbana purtroppo è molto molto anziana e allora a questo punto abbiamo deciso veramente di investire in autofinanziamento per incominciare un rinnovo. Sul parco extraurbano oramai in Italia sono troppi anni, oltre 20 anni che non ci sono investimenti legati a finanziamenti pubblici. Quindi TM trovandosi in una situazione abbastanza buona dal punto di vista finanziario ha deciso di investire in questo caso 3 milioni e 600 mila euro per acquistare 18 nuovi bus extraurbani che andranno a posizionarsi in parte sul Casentino, sulla Valdichiana, comunque nel raccordo tra le città che TM gestisce come TPL. I nuovi mezzi sono dotati di sistema di video sorveglianza digitale con 5 telecamere, sistema VM che consente la geolocalizzazione del mezzo, cartelli luminosi interni ed esterni per indicare la fermata ed infine sistema di conteggio dei passeggeri. E quindi una nuova flotta importante che si va ad aggiungere a un parco già piuttosto consistente e che però darà un servizio sicuramente migliore rispetto a quello che già viene erogato. Quindi un grazie all'azienda di aver fatto questo importante investimento in un momento in cui c'è una gara in corso e quindi ci sono tanti incogni e tanti interrogativi da sciogliere, però evidentemente l'azienda crede ancora nel suo futuro, giustamente, speriamo che così sia.